Dimentica lo stress e lasciati catturare da un'esperienza irripetibile. Il trattamento Shirodara renderà i tuoi capelli forti e luminosi, grazie a un filo di olio tiepido, dolce e costante, accompagnato da un lento e rilassante massaggio. Da noi trovi solo prodotti di origine biologica, ricavati da piante e fiori. Niente siliconi, petrolio e derivati o coloranti artificiali. Extra ti aspetta a Casteggio, in Viale Giulietti 23. Si è svolto ieri sera, nella splendida location di Villa Chimera a Torrazzacoste, l'emozionante evento dedicato alla memoria di Luca Bassi, lo psicologo torrazzese scomparso nel 2011 a soli 32 anni a causa di un linfoma non otchina a grandi cellule di tipo B. La serata è stata agliettata dall'intrattenimento di artisti come Ermanno Calatroni, Giorgio e Mary Macellari e Dilaria Fontana. A Pavia con Luca erano ricoverate persone che giungevano da ogni parte d'Italia, hanno spiegato Lorenzo Bassi e Piera Radicello, i genitori che con gli amici del figlio hanno fondato l'associazione Luca per non perdersi nel tempo, realizzando il desiderio espresso proprio da Luca pochi giorni prima di spegnersi. Il sogno di Luca, spiegano Lorenzo e Piera, era quello di aiutare, tramite Paviail, l'ematologia di Pavia per la ricerca e la vittoria su questi tumori, affinché nessuno debba più patire ciò che lui in prima persona ha sofferto ed affrontato. E proprio i desideri sono stati i protagonisti della serata. Ogni partecipante ha potuto affidare il proprio ad un palloncino lasciato successivamente libero di volare nel cielo, verso Luca, verso chi non c'è più ma nel tempo non si perderà mai. Per maggiori informazioni sull'associazione è possibile cliccare su www.lucapernonperdersineltempo.it